Una delle sfide delle nostre società è il cambiamento climatico. Noi sviluppiamo algoritmi basati sull'intelligenza artificiale che estraggono informazioni in maniera automatica dai dati satellitari. Lavoriamo sulle parti di cryosfera, quindi estraiamo informazioni sullo scioglimento dei ghiacci in Antartida e in Groenlandia. Lavoriamo sull'analisi pre e post evento su eventi estremi come possono essere i terremoti, le alluvioni, gli incendi e queste informazioni che vengono estratte in maniera veloce e in maniera automatica possono essere di supporto alla protezione civile o ai decisioni.